Batman, Jim Gordon, credevano di controllare questa città. Non è mai stato così. E voi? Non avete speranza. Perché loro osservano sempre. Ascoltano sempre. Manovrano tutti quanti. Me. Voi. Ma non farne il nome. Nemmeno a mezza voce. La corte dei gufi è un mito. Stanno ascoltando. Quattro. Quattro. Unitore. Ho! Unitore. 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 Unitorebur Se volete entrare nella dana del bianconiglio, sappiate che non tornerete indietro. Grazie per la visione!